Se prendiamo l'ospedale di Pordenone cade tutto il sistema. Lo slogan inquietante in un file audio intercettato nelle chat era questo. Troppo per non mettere in allarme la polizia. Secondo gli inquirenti l'obiettivo dei Novax, non solo del fluo di Venezia Giulia ma anche trevigiani e veneziani era preciso. Manifestare davanti al nosocomio e arrivare a occupare in qualche modo la struttura a partire dalla direzione sanitaria. È finita invece grazie all'intervento della questura con una maxi denuncia per i partecipanti. Tra questi anche l'ex leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, per il quale è scattato il foglio di via obbligatorio per tre anni dalla città. L'appuntamento alle 9.30 al piazzale dell'ospedale. Sono arrivati in un centinaio, spiazzati però dalla presenza della polizia. Non sapevano che gli agenti erano già al corrente di tutto. Dalle prime luci dell'alba infatti la Digos, che monitora costantemente ogni anfratto della rete dei social legato al mondo dei Novax, aveva fatto scattare l'allerta per immoltiplicarsi di messaggi e inviti nella notte verso la manifestazione non autorizzata per protestare contro la sospensione dei sanitari nel giorno in cui scattava l'obbligo vaccinale di alcune categorie lavorative, tra le quali il soccorso. Dopo la segnalazione, il questore Marco Odorisio ha disposto dalle 7.30 del mattino tre diversi presidi di sicurezza, non solo all'ospedale, ma anche presso altri due obiettivi sensibili, la Cittadella della Salute, dove attiva il polo vaccinale e la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria. Un centinaio i manifestanti giunti in gruppi tra le 9.30 e le 12.30. L'ospite d'onore annunciato in chatter a Stefano Puzzer, chiamato a pronunciare un discorso. Tutti sono stati prima e dopo identificati e invitati ad allontanarsi. Tra questi anche decine di Novax provenienti dalle aree della Marche del Veneziano più vicine a Pordenone. Per tutti è scattata una maxidenuncia per manifestazione non autorizzata. Uno di loro, che rifiutava di farsi identificare e non voleva portare la mascherina, è stato accompagnato in questura. Sessa destinazione anche per Puzzer, per il quale è stato deciso il foglio di via obbligatorio triennale. Lapidario, a fine giornata, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni. A noi, dice, non rimane che continuare a lavorare in silenzio e con ancora maggiore intensità a beneficio della comunità.